23 nuovi mezzi, una dotazione moderna a disposizione degli agenti. Il parroco della chiesa di San Marco a Iapigia, Don Felice Iacobellis, accompagnato da Don Franco Lanzolla, ha dato la sua benedizione alle nuove automobili del parco macchine della polizia locale di Bari. Le 23 Fiat Tipo sono state acquistate con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie tramite procedura Consip da Stellantis e sono allestite per il pronto intervento con tutti gli strumenti tecnologici per supportare il personale di servizio. Contemporaneamente sono stati avviati a rottamazione i veicoli non più manutenibili, circa 50 tra autovetture e motocicli. È previsto inoltre un ulteriore acquisto di almeno altri 10 veicoli nel 2024. A spiegarlo è stato il comandante della polizia locale di Bari, Michele Palumbo. È importantissimo operare con mezzi nuovi, non solo per i dispositivi supplementari, sirene o lampeggianti o dispositivi mobili per le deviazioni al traffico. Anche su quello stanno per arrivare dei dispositivi che ci consentano, pensate a un intervento sulla Statale 16, di costituire e prevedere in anticipo eventuali deviazioni al traffico o ingombri della careggiata. Per la neoassessora, la polizia locale Carla Palone, presente alla cerimonia, è stata la prima uscita pubblica con le nuove deleghe. Un appuntamento simbolico a confermare la volontà dell'amministrazione di voler puntare sul rafforzamento della polizia locale. La polizia locale non è solo contrasto, ma è avvicinanza. Il mio ruolo e anche il mio obiettivo è quello di far sì che la polizia locale non venga vista solo come agenti che fanno multe, ma che siano vicini ai cittadini per qualsiasi esigenza. Una sfida a lungo raggio che vorrei portare avanti con l'amministrazione attuale è quella di dare un presidio di polizia locale su tutto il tessuto cittadino.